Giorgio Pellegrini, accessorie mobili per bagno, pavimenti e rivestimenti. Giorgio Pellegrini, accessorie mobili per bagno, pavimenti e rivestimenti. Giorgio Pellegrini è in via Smeralto 18 a Grosseto. L'azienda è stata fondata da Giorgio Pellegrini nel 1955 e da allora ha rappresentato un punto di riferimento costante per chi vuole arredare la casa con prodotti di qualità. Facendo forza sulle capacità del personale e sulla dinamicità commerciale dimostrata, l'azienda amplia negli anni il suo catalogo di prodotti di importante contenuto formale fino a giungere i giorni nostri in continua ascesa. L'azienda Giorgio Pellegrini offre ai suoi clienti prodotti per pavimenti e rivestimenti, idrosanitari, rubinetteria e arredo bagno ed infissi. La filosofia aziendale è improntata sulla proposta di materiali di altissima qualità e di grandi marchi, che costituiscono il fiore all'occhiello della ditta e offrono un'ampia possibilità di scelta tra le proposte di funzionalità e qualità. Nello stupendo showroom, la nostra azienda propone una vastissima scelta di prodotti e un personale competente a vostra disposizione. per consigliare e offrire le soluzioni più console a ogni esigenza. L'obiettivo è quello di ottimizzare gli spazi disponibili senza perdere la possibilità di personalizzare e rendere originale ogni soluzione per la casa e in particolare per il bagno. Per ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito www.giorgiopellegrini.it Giorgio Pellegrini, da più di 50 anni idee che rendono reale il sogno di una casa a misura d'uomo. Grazie.